No, 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 aspetta! Che cosa sto indossando? Ok, adesso si può partire. Ciao a tutti patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete intuito dal titolo, questo è un Ask Snapchat, quindi su Snapchat ho fatto una breve storia dove vi chiedevo di farmi delle domande e sono qui appunto a rispondere, a vedere le vostre faccine. Per i più vergognosi invece leggerò semplicemente le domande che mi avete fatto, quindi direi di iniziare subito. Allora, iniziamo con la domanda di Veronique. Auguri Gloria! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, sono così fiera di te, sei la mia youtuber preferita. Amore! Ciao Gloria, ti bacio bene e ti seguo sempre, lo sai. Volevo chiederti una cosa, quali sono le tue tre serie tv preferite? Ciao, un bacione! Allora, che bella domanda! Ciao Veronique, un bacione anche a te, questa cosa è fichissima. Allora, le mie tre serie tv preferite sono sicuramente Nashville, Read a Little Liar, sicuramente, ma sì, io direi Once Upon a Time. Paola Parisi, 93, vediamo cosa mi dice. Ciao! Lei mi chiede qual è il mio più grande sogno da bambina con questa faccina da dear, carina Paola Parisi, un bacione. Paola Parisi, 93. Il mio sogno da bambina era diventare una cantante e una ballerina, volevo fare sia la cantante che la ballerina. Adoravo imitare Michael Jackson, io amavo e amo tuttora Michael Jackson. E niente, mi vestivo come lui e ballavo in giro per casa con mia mamma, cantavo e ballavo, quindi sì, ballerina e cantante. Mister Kevin Makeup! Ok, allora, ciao Kevin, un bacione che ha detto che voleva finire nel video, quindi ve l'ho fatto vedere. Se non erro ho fatto le mie prime mesh 15-16 anni, non erano mesh, erano semplicemente dei colpi di sole, avevo i capelli castani, perché io ho un colore, tipo, ho un biondo scuro cenere. Avevo fatto dei riflessi un po' più rosticci su questo castano che avevo, questo anzi, biondo scuro cenere, puntualizziamo. E niente, quindi sì, all'età di 15-16 anni, credo. Andiamo avanti con Gaia Pisani, questa cosa mi casa moltissimo. Gloria, intanto volevo chiederti se poti mettere questo video nel tuo video. La seconda domanda è qual è la tua marca di vestiti preferita? Ok, qual è la tua marca preferita di vestiti, mi chiede Gaia Pisani. Un bacione, tesoro, da un annetto a questa parte, Pull&Bear sicuramente. La mia marca preferita in assoluto, perché ogni volta che entro da Pull&Bear, quando vado ad Arese, è tipo, ooooh, cioè, il mio mondo, cioè, mi sento proprio parte di quel negozio. Come tutti i negozi c'è sempre quel capo che trovi e dici, ok, mi fa schifo. Però devo dire che ogni volta che entro c'è sempre qualcosa che mi... Anche perché, allora, questo negozio, la cosa figa di questo negozio è che io entro, e ha uno stile simile al mio, ma anche un po' diverso, e quindi mi sprona vestirmi un po' più... diversa dal solito, ecco. Quindi mi piace un sacco anche per questo. Poi, Beasivy03. Cosa ti aspetta ad avere un canale YouTube? Il fatto di mettermi, ovviamente, in gioco, e di scherzare davanti a una telecamera, di avere un pubblico che mi seguiva, perché, diciamocelo, nessuno fa YouTube perché è timido. Cioè, nel senso, sì, puoi essere timido, il minimo di voglia di metterti in gioco, di farti vedere, c'è, di base, anche se sei timido. Anche se sono molto timida, ero molto più timida prima di YouTube, quindi è una cosa che magari consiglio, è iniziare a parlare, anche se poi non caricate i video, a parlare davanti a una videocamera, e provare a chiacchierare col nulla, anche per abituarvi a dialogare, ecco, a dialogare con qualcuno, e questa cosa mi ha aiutato tantissimo, ed è stata proprio questa, la voglia di mettermi in gioco, di scherzare, di far sentire la mia parte un po' più stupida, un po' più frivola, non stupida, un po' più frivola al mondo, e quindi mi ha spinto questo, sì. Ok, anche lei mi ha fatto la stessa domanda, e come ho detto prima, è perché volevo mettermi in gioco, tra l'altro il mio primo video è stato, quello dove cantavo, cioè un video serio proprio che ho caricato, quello dove cantavo Alejandro di Lady Gaga, tipo 5 anni fa. Cerexoxo05 Ti volevo chiedere come quando hai riuscito di aprire il tuo canale YouTube, e comunque sei una persona fantastica, meravigliosa, ti amo, amo i tuoi video, e a parte il sondertanello viola, che patatina, grazie mille amore mio, ma che tenerella. Quando è stato appunto 3 anni fa, oramai, vabbè il canale avevo già aperto da prima, perché guardavo altri YouTuber, e avevo caricato la mia cover di Alejandro, 5 anni fa, come vi ho detto. Sofia2015 mi chiede Ciao Glò, ti adoro, se potessi collaborare con la tua marca di trucco preferita, quale trucco vorresti creare? Ti adoro, mi saluti? Ciao Sofia, un bacione, ti adoro anch'io. Che domandona. Quale trucco vorresti creare? Allora, tipo, una mia marca preferita, mettiamo caso che potessi collaborare con, ce ne sono tante preferite, facciamo Lime Crime, nonostante tutto quello che sia successo in passato, però a me packaging prodotto mi piace un sacco. Quindi facciamo finta che Lime Crime dice Ciao Gloria, puoi creare quello che vuoi, cosa vorresti creare? Ok, sicuramente una linea di rossetti liquidi ultra matt, sicuramente, cioè questo, su questo non ci piove. E poi farei una palette di ombretti, ma una palette di ombretti particolare, cioè particolare che non vi sto a svelare, perché se dovessi un giorno veramente farla, ovviamente se no mi ero rubata l'idea, quindi sì, farei una palette e poi delle tinte labbra, cioè dei rossetti liquidi matt. Lalla 2003 Panda Le classifiche delle cose che odi di più e che ti fanno più paura? Un bacione tesoro, la vedo sempre agli incontri di Milano. Facciamo una classifica, tipo una top 3. Gli insetti, che mi fanno urlare, poi a volte il buio, mi fa un sacco paura, ma a volte mi piace, dipende dalle vibrazioni che ci sono nella stanza, e su questo approfondiremo questo discorso. E poi la terza cosa, il fatto di dover rimanere sola, di perdere tutti i miei cari, rimanere da sola, e infatti a volte dico preferire andarmene prima io e poi ciao a tutti gli altri, però questa cosa sarebbe un po' egoista. L'andar via in generale, cioè una cosa bruttissima che però tocca a tutti. Come siamo schietti, eh, filosofici schietti. Bea Cicchillo, non ha una domanda? Ciao Gloria, volevo farti due domande. Innanzitutto, chi ti ha ispirata durante il tuo percorso YouTube? E infine, cosa ne pensi della comunità italiana? Un bacio. Ciao tesoro! Allora, lei era gjame99, ti mando un bacione. Oh my god, non mi ricordo. Io ero in fissa con lei, Faffinette X3, non so se la conoscete, non mi ricordo neanche se esiste ancora. L'avevo vista l'anno scorso e esiste ancora, però non riesco più a seguirla, non so perché, forse perché ha cambiato anche lei mood. Ero proprio appassionata di lei, guardavo i suoi trucchi. Ero in fissa con lei, infatti la prendevo proprio di ispirazione anche nel make-up. Cosa ne penso della comunità italiana? Penso che sia una comunità egoista, e penso ci siano poche persone che si salvano, e ancora devo scoprire bene queste persone, perché è brutto, perché in America sembrano tutte una grande famiglia, in America o comunque all'estero, le antipatie ci sono in tutto il mondo. Però una cosa bella di YouTube estero, e che non lo danno a vedere, credo che non è... credo, almeno io non ho mai visto, un video polemica su altri YouTuber cattivo come qua in Italia. Cioè, in Italia va il trash. Mi dispiace dire questa cosa, ma è vero. Cioè, in Italia va il trash. L'italiano, o all'italiano, piace guardare questa serie di video. E la cosa brutta è che chi magari ci mette un po' più di impegno, un po' ci mette del contenuto nel proprio video, viene visualizzato di meno, viene calcolato di meno, rispetto a chi fa un video con... non dico con equipaggiamento scarso, scadente, perché comunque non tutti abbiamo la possibilità di prenderci la videocamera super figa, o le luci super fighe, ovvero una cameretta apposta. Però il contenuto, l'importante è che hai il contenuto. E purtroppo in Italia vedo che vanno quelli che parlano di frivolezze, ma veramente frivolezze. Però io ho messo un contenuto nel mio canale, è un'ottima vetrina, se tu vuoi intraprendere qualsiasi cosa, e lo dipende da cosa vuoi fare nel tuo futuro. Ecco, tipo il videomaker vai a fare corti su YouTube, è una bellissima cosa, è una bellissima vetrina. Purtroppo alcune persone usano YouTube, e le persone per arrivare ai loro scopi che non sono pertinenti a quello che è poi YouTube, quello che è la community di YouTube, e quello che è questa piattaforma. Ma semplicemente per farsi vedere, e ci sta se fai qualcosa con un contenuto, ma se lo fai semplicemente per far soldi, ma non ci metti l'anima, secondo me è una roba tristissima, e vedo che la community italiana è così, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma è così. Almeno questo è quello che penso io. Annalisa Zanoni. È una domanda stupida, ma come stai? Mi saluti? Ciao Annalisa, sto molto bene, grazie. Amara chiede. Ciao Gloria, Sono Mara, e la mia domanda è, ti piacerebbe poter creare una tua linea di make-up, magari collaborando con qualche brand, collaborando con qualche brand, con un brand magari, però creando una linea di make-up, solo ed esclusivamente tua? Quindi spero che risponderei alla mia domanda, mi piacerebbe esserci nel video, che pubblicherai rispondendo a tutte le domande, che sicuramente stai ricevendo in questo momento, e ti mando un grosso bacio, perché sono già contro il video che ti mando, quindi ti mando un grosso bacio, e grazie per tenermi sempre in compagnia. Amore, grazie a te, che tenerina. Allora, sì, come ho detto prima, mi piacerebbe tantissimo poter collaborare, ad esempio, con Lime Crime, per il pack, per le idee che ha, e per lo stile un po' grunge, ma molto unicornoso, se vuol dire, hashtag unicornoso. Eli Mattioli invece chiede, Che carina! Bacio a Eli Mattioli, ma grazie mille per la domanda, il colore che mi è piaciuto di meno indossare, tra tutti quelli che ho fatto, è sicuramente il nero. Sono stata per un sacco di anni nero corvino, e non mi piaceva per niente il nero. La mia mica Sara dice, no, stai da Dio nera, devi farti nera. A me, ad esempio, è un colore che appena lo vedo, viene il rigetto su di me, ovviamente. Pepe e Cristina, volevo chiederti, Ma tu e Giulia avete litigato? Spero mi risponderai, grazie Cristina. Questa è una domanda che mi avete fatto in tante, e ho risposto a un sacco di post su questa cosa. Abbiamo preso semplicemente due strade diverse, e quindi ho deciso di non parlarne, perché è vero, è una persona che ho incluso nel mio canale, nella mia vita, e l'ho condivisa con voi. Stessa cosa ha fatto comunque lei. Però abbiamo preso semplicemente due strade diverse, e non mi voglio dilungare troppo, perché, come ho ripetuto prima, voglio creare dei contenuti, non voglio fare polemiche sul mio canale, quindi... Miss Giulia 4. Bella domanda, tre desideri per un genio della lampada. Vorrei sapere se c'è qualcosa al di là della morte. Tipo, una risposta. Che cosa siamo? Cosa c'è oltre l'universo? Una domanda che mi distrugge interiormente, è una roba che voglio sapere da sempre. Tipo, la risposta delle risposte. Chi siamo? E che cosa ci facciamo su questa terra? Seconda, desideri infiniti. Ma vabbè, non si può. È una domanda che non si può fare. Sicuramente, rivedere i miei cari. Passare almeno, visto che non si possono riportare, perché è una delle leggi, dei desideri, e non poter riportare in vita i morti, o far innamorare qualcuno, o i desideri infiniti, io sicuramente chiederei di rivederli l'ultima volta, farci una chiacchierata, e avere un bel ricordo finale, ecco, di questa cosa. Che bei discorsi che faccio! Sono molto triste, lo so. E poi il terzo desiderio? L'amore. L'amore. Chiara Chiatica, mi chiede, non mi chiede, mi manda un video mio. Sara Pinkberry. Ciao Gloria, senti, domanda, so. No, volevo sapere, visto che sei così sulla rallegra, cosa fai quando sei triste per combattere la tristezza? Bella domanda. Quando sono triste per combattere la mia tristezza, innanzitutto un bacino, Sara Pinkberry, mi godo la tristezza. Nel senso che se sono triste, sto tutto il giorno triste, perché mi deve passare. Io sono molto lenta nel metabolizzare le cose, che siano cose belle e cose brutte. Ho bisogno di prendermi il mio tempo, i miei spazi, e soprattutto se sono incavolatissima, ci rimugino tantissimo. Ho bisogno di stare nella mia bolla e di vivermi quel momento, che sia bello brutto, soprattutto brutto. Io voglio vivermi quel momento perché, non dico che mi piace star male, però non voglio poi ripensarci in un secondo momento, quindi me lo godo bene per poterlo, un po' tipo alla Gilmore, no? C'era una puntata quando, praticamente, Rory si era lasciata, e non stava metabolizzando la cosa, e Lorelai gli fa, sua mamma gli fa, no, devi mangiare gelato, devi stare seduta sul divano a piangere, devi sfogarti, e lei dice, no, 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 ecco, io sono un po' come Lorelai. Vediamo, Eleonora, che cosa chiede? Gloria, ti devo chiedere, qual è il tuo, qual è il tuo colore di capelli preferito tra tutti quelli che hai avuto? Un bacio. Che tenerino. Un bacione anche a te, tesoro. Allora, il mio colore preferito, il lilla. Quando ho fatto i capelli lilla, erano i miei preferiti, peccato che non erano durati un cavolo. Gaia Murrighile, Murrighile, non so come si pronuncia, vediamo. Ciao Gloria, io sono Gaia, voglio farti una semplice domanda, come stai? Tutto bene? Ciao amore. Un bacio enorme, ciao. Che patatona, grazie tesoro, non so se ti potevo mettere sul video, però comunque grazie mille e come risposto prima, se ti già mi vuoi chiedermi come sta, siete dolcissime, sto molto bene, grazie. Tere Zanca chiede, Ciao Gloria, vorrei chiederti perché mi sono stati a fare i video su YouTube e grazie per scegliere questa domanda. Amore, che carina, grazie a te per avermela fatta e a questo ho già risposto prima, quindi grazie per avermi dedicato un po' del tuo tempo. Giulina 03, Ti volevo chiedere, ma da quant'è che sei fidanzata? Da quant'è che sono fidanzata? Sono sette anni e sei anni che conviviamo, siamo andate a convivere praticamente subito. Ebbene, abbiamo finito, queste erano le domande che mi avete fatto su Snapchat, vi ringrazio tantissimissimo, spero che questo video vi sia piaciuto perché l'ho pensato anche un po' come sorta di regalo per voi, per ringraziarvi del fatto che siamo più di 100.000, io ancora non ci credo, e appena entro sul canale vedo quel numero pazzesco di con mio Dio, cioè anche se non siete tutte quelle persone ovviamente a seguirmi o magari a scrivermi tutte le volte, però già solo che avete cliccato il tasto iscriviti perché avete visto anche solo una volta il mio video, avete anche solo una volta sentito le mie parole, per me conta tantissimo. Vi volevo ringraziare facendo questo video, insomma vedendo anche le vostre faccine e sapere chi è che mi segue. Se vi è piaciuta questa tipologia di video, mi raccomando, fatemelo sapere perché ne facciamo un altro. Vi ricordo che ho aperto un nuovo canale dei vlog, quindi se volete scoprire il dietro le quinte della mia vita, vi lascio nel link, vi lascio nel link, vi lascio nell'info box il link che si chiama appunto Fairland, il nuovo canale dei vlog, mi raccomando iscrivetevi. E niente, vi mando un mega bacione, un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!